Ciao belli, riaccomi subito con un altro disegno creato per voi. Come ho anticipato nel video precedente, eccovi un altro tipo di testi o per la vostra biografia. Come alcuni di voi già sapranno, questi tipi di disegni possono essere utilizzati per la vostra biografia di Xbox Live, ma vista la dimensione, possono essere anche inviati come messaggio di testa ad un'altra Gamertag. Inoltre il disegno, se verrà utilizzato come biografia ovviamente, sarà visibile solo con la vista panoramica della biografia e non quella dettagliata. Per ottenere il disegno dovrete andare nella descrizione di questo video, cliccare sul link di download e scaricare sul vostro PC il file di testo. Dopodiché andate sul sito xbox.com e cliccate su accedi in alto a destra. Inserite i vostri dati di accesso della vostra Gamertag e dopo che siete entrati cliccate sul nome della vostra Gamertag in alto a destra e successivamente cliccate su modifica profilo, che potete trovare sotto l'icona del vostro avatar. Ora tornate al file di testo che avete scaricato precedentemente. Copiate il contenuto stando attenti a selezionare dal primo carattere all'ultimo carattere del disegno, perché se mancherà anche solo un carattere il disegno risulterà sbagliato completamente. Dopo averlo copiato correttamente, tornate sulla pagina internet del sito e incollate il tutto dentro la casella biografia. Cliccate su salva e il gioco è fatto. Se invece volete inviare il disegno come messaggio di testo ad un'altra Gamertag dovrete accedere sempre al sito xbox.com, mandare nella sezione messaggi e incollare il vostro disegno nell'apposita casella di messaggio e premere su invia dopo aver selezionato i destinatari. Spero di essere stata chiara con la spiegazione, ci becchiamo alla prossima biografia e ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube così da rimanere sempre aggiornati con me. Alla prossima, ciao! Ciao!